Ah è mezz'ora, dio cazzo Eeeh, allora, tre, tre Mi banneranno per mezz'ora o un'ora? Questa è due ore Sì, 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 per mezz'ora, per mezz'ora, mezz'ora No, perché dalle classificate adesso ho messo che il minimo è due ore Ti bannano per due ore, il minimo Se abbandono Eh, se abbandono, sì BATO, 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 DI UN MOMENTO Quanti cazzo le fatti spladere? Chi prendo? Dammi finca Prendi Prendi, prendi Ma lascia di giocare col cazzo che vuole, dio fa Non mi fa fastidio quando fa, Alex, dio fa Ma puoi dire qualche altra cosa? Non sempre dio Ma tu che cosa hai sempre da venire qui a cagare il cazzo? Cioè, ma sei sempre in it, sei sempre Quello non è tutto Ma sei sempre inizia 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 Ma sei sempre inizia